E per tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi siamo qua, oggi per me è Natale, per voi già il 26 ma questo non ve ne frega, può fregare a me di meno Siamo qua oggi per andare a completare l'ultima missione che ci chiede cattura un flopper innevato In teoria sto cavolo di flopper si fa trovare in giro per tutta la mappa Quindi noi ci buttiamo subito in un arresto a squadre, lo andiamo a pescare E poi cerchiamo di farci una bella squad con il lancia granate che ha questa skin qua Quindi cerchiamo in partita e andiamo a pescare, sperando che sia fortunati Quindi eccoci qua, sul lato bus della battaglia come vi ho detto il pesce si trova ovunque Quindi andiamo in un punto di pesca qualsiasi, che tanto abbassa che ci sia la canna da pesca Quindi easy, ma la verità io sto andando al laghetto qua eh Non è perché sono uscito a caso io quindi non mi chiedere Dove è che state voi? Ah voi proprio state brughiere e voi non entrate Dove state? E state tutte le tre? Eh vabbè, siamo sempre lì Ma non è che magari se lo becco qua dentro va lo stesso, nel frigorifero Non lo so, ma tanto non l'ho beccato quindi easy Allora, canna da pesca serve qualsiasi Non serve, forse guarda, professionista Teoria E si trova solo nelle puzze, vero? Credo di no, non lo so Ma speriamo Tu cerca delle puzze Speriamo, però pescare una volta qua a caso nel... nell'acqua così Se vuoi venire qua che c'ho delle puzze Ti pare ovvio che mi cada la prima Vai No, qui c'è scudo Non trovo più poze, non vedre poze Ah Cecchino, bello cecchino Sai quanto me ne frega il cecchino Dopo zero Ma santo di me Santo apriamo le cassette, apriamo queste Ci danno niente Easy Easy Sì Direi che possiamo anche quittare Tanto a me l'ha contata Va che bello Quando l'hai fatto a te abbiamo trovato Certo Quindi abbiamo la skin Tutti e tre Barra tutti e quattro Perché Gabriele ce l'aveva già però va bene Poi diecimila punti di esperienza Che Li ficherei nel gabinetto Ma li prendiamo Perché comunque E il piccone della ricompensa di oggi Quindi direi Riscattiamo tutto Andiamo Madonna che velocità Oh C'è neanche Neanche devo più parlare Già se l'avete Vabbè Andiamo a inserire Il signor comando di neve E il signor piccone di Non so come si chiama La picca di tacco Vai Mettiamo squad E proviamo A cercare il suo lanza di granate E farci una bella vittoria Tanto Sappiamo già tutti che non la faremo Quindi va bene Easy Partiamo da qui Con il nostro bellissimo autobus Di Babbo Natalino Dove sei Va Cara Babbo Natale Dove andiamo di bello oggi? Per i bislac E Sì sicuri Sì Siete sicuri? Sì Sì Ve lo richiedo Siete ancora sicuri? Sì a voglia Io sono così sicuro Che mi sono pure buttato Eh va bene Ma non anch'io morire Della strada Secondo me Moriamo subito Come al solito Ma tanto è palese Che moriamo subito Non è che Il mio pump Il mio pump Buono Che ci sta nel pacco? Ah ecco C'era un nemico nel pacco Cotto è ammazzato No Guardate Ha lasciato stare Eh invece no Ma è pam Una pumpata in testa Col pumpata leggendario Tutto Dai si è tornato in vita Ah beh Guarda che sa com'è bello Guarda Ah col pumpa bianco Guarda bello Mi dai colpi Alberto mi dai colpi Grazie mille Wow Quattro colpi La porteremo mai a casa Eeeh Un'altra volta sei morto Che peccato Adesso dobbiamo restare Ma che bello Guarda ti dro Non era Non è che mica ti ucciso io prima Però la verità Non è neanche una cosa brutta C'è tanto dobbiamo fare la missione Direttare io Quindi easy Passiamo Prendono la schedina Magari pure C'è gente al rest Amata Oh Piate la scheda va Ce la prendono E poi Cosa Vieta la scheda Aspettate che vado a restare E facciamo la missione va Eh Dove ci siamo Anche se però C'è gente al rest Qua eh Non c'è nessuno Non c'è nessuno Guarda eh Guarda chi è che ci muore Eeeh Guarda chi è che ci muore Un'altra volta No Non c'è nessuno Guarda no Più Ci chi nada in volo Probabile E' fatta E' fatta E' fatta E' fatta anche la missione No me la da Perché non me la da Oh Più che devo dire Sare Ah Eccola la missione Dai andiamo a killare la gente Bastoni 20 20 Ucciso uno Ucciso uno Sono troppo forte Adesso mi hanno Ciccannato Abbiatele Catenate l'inferno Si eh Che cos'è Accitazione è che cosa Ah Non lo so Dove sta la gente Bomba Mi ha fatto 20 Mi ha fatto 0 Mi ha fatto Mi lagga il gioco Mi ha fatto Sì E' morto Urco Ok Morto Un altro Buono Mi interessa Questa partita Molto bella Già che vedi Alberto Non mi fido Però Oh E vai Alberto Appunto Eh ma Che autista Della mutua Che abbiamo preso Guarda Proprio un autista Un po' schifoso Proprio un amico Un amico Un amico Dov'è Ma che ci frega Della amico Voglio la kill io Guarda che autista Guarda te Ma che bravo Ma che bravo Ha l'atterraggio pulito Sì Easy Cioè guarda Eh se freni però Ohi frena Oh Oh Frena Eh vabbè sono talbici Ma che fa Ma come fai a spingere Non ho capito Vieni indietro Fai la retro Mi sa che la donna è da quitato No Sì Ah ok Perfetto Alberto Ma la retro no Oddio Ma che è Dov'è Non lo Non lo vedete voi Cosa Lo vedo camminare in avanti Lone a dio No Io lo vedo bloccato Ah Eh vabbè Ok Alberto Ho capito che ti piace guidare sto aero Ma stai calmo C'è Orca vacca Vieni qua indietro va Ole Facciamo rifornimento va Non entra Non entra il carburante Oh Eh la pushano Attenzione Gli pushano Dove stanno Non li vedo Sono poi No Lo potete tenerti in effetti Però me lo prendo io Me lo frego io Già che prendo anche Ma Va bene dai Ma Spariamo pure no Non com'è spara Oh cazzo E non vedo che ci sono le ali E non mi ha suicidato Ma come faccio a sparare così Non ci vedo niente Alberto Eh io direi scendere Oramai Che si è targettato Io non so Quanto A picco A picco A picco A picco Giù Che se qua esplodiamo Orco cane Oh Se esplodiamo Io uscirei Orco cane Dove andiamo? Vedete qua Vedete qua Vedete qua La scala Sei contento? Bravo Bobotto a pedali Sei contento? Mannaggia Comunque Stando qua davanti Stando un po' dappertutto Della verità No Stando qua davanti Sicuramente Perché gli stavo sparando Però Gli sta arrivando qualcuno Da sinistra Da est Arriva gente Quindi Il problema è Qualcuno ha controllato Dietro se c'è qualcosa Oppure no No Non lo so Nessuno Nessuno Cheat Guarda eh Cheatone Oh 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 Ok Urca vacca Puzzolona Ma me devo prendere No perché C'è già bianco Mannaggia Sto cecchino Mi intendo Sapere C'ho sedita Bene Ma Io voglio pescare qua Ma qua sotto c'è uno Aiuto Ma Perché sei sceso te Eh Voglio prendere La Pazzo Mi ha distrutto Pure lui Io ho fatto danno Ma mi ha distrutto No Non ci Ma dai Ma come C'è scusa Lo scarico Ti porto Del P90 Stai scherzando Quindi ragazzi Vi ricordo Pollicione in su Iscrizione Campanella Qua sotto Link in iscrizione Del canale di Gabriele Se potete farci un salto Sul suo canale In più Canale di mio fratello Sempre iscrizione Se potete farci un salto Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo domani Sempre alle 14.30 Sul canale Col video giornaliero Vi ricordo Fino al 7 gennaio E niente Noi ci becchiamo Domani Bella